Grazie a tutti, Manuela Tempesta, un grande applauso per questa bella sorpresa alla Casa del Cinema nei giorni scorsi, grazie per essere venuta, che hai vinto esattamente con Cristallo, giusti? Abbiamo vinto questo premio, sempre finanziato da Equilibrile, da Maria Zuccarelli, di Tenna Tanzieme, è un corto che parla della violenza sulle donne e ha preso il premio di Varsa ai Portitette d'Argento. Sono molto emozionata perché c'è una platea incredibile per me, sono tutti i maestri del cinema e i maestri della musica, quindi è veramente prestigioso, grazie. E poi c'è anche Luca che voleva aggiungere un piccolo saluto. Io volevo salutare anche Edoardo Pesce che fa parte del nostro entourage, stasera è un impegno familiare, un po' di stare con la nipotina. Consegniamo a Marco il nome di tutti, facciamo le foto, prego, mettetevi davanti.